Capitolo 37 Undici anni Buon compleanno, cretina, canticchiò Steven, rovesciandomi in grembo un secchio pieno di sabbia. Un granchio sgusciò fuori dalla sabbia e mi strisciò sulla coscia. Io lanciai un grido e saltai in piedi. Rincorsi Steven lungo la spiaggia con una furia cieca che mi scorreva nelle vene. Non fui abbastanza veloce da acchiapparlo però, non lo ero mai. Vieni a spegnere le candeline, urla mia madre. Non appena Steven girò per tornare all'asciugamano, io gli saltai sulla schiena e con un braccio attorno al collo gli tirai i capelli con tutta la forza che avevo. Ehi! strillò lui incespicando. Io gli restai attaccata alla schiena come una scimmia, nonostante Jeremiah mi avesse afferrata per un piede e cercasse di tirarmi via. Conrad cadde in ginocchio dal troppo ridere. Bambini! urlò Susanna. C'è la torta! Io saltai giù dalle spalle di Steven e mi precipitai verso il telo. Ti prendo! strillò mio fratello rincorrendomi. Mi nascosi dietro a mia madre. Non puoi, è il mio compleanno! Gli feci la linguaccia. I ragazzi si buttarono sul telo sudati e insabbiati. Mamma! si lamentò Steven. Mi ha strappato un ciuffo di capelli! Steven, ne hai la testa piena. Fossi in te non mi preoccuperei. Mia madre accese le candeline sulla torta che aveva sfornato quella mattina. Era un pan di spagna sghembo con la glassa al cioccolato. E dato che aveva una brutta calligrafia, buon compleanno sembrava buon compleamo. Spensi le candeline prima che Steven tentasse di aiutarmi. Non volevo che mi rubasse il desiderio. Desiderai Conrad, ovviamente. Apri regali, Pucciona! disse Steven con aria imbronciata. Sapevo già cosa mi aveva preso. Un deodorante e lo aveva avvolto in un kleenex. Traspariva da sotto il fazzolettino. Lo ignorai e allungai una mano per prendere un pacchetto piatto avvolto in una carta con le conchiglie. Era di Susanna, perciò sapevo che sarebbe stato un bel regalo. Strappai la carta e dentro trovai un braccialetto d'argento portafortuna preso al negozio preferito di Susanna, Reingold, dove vendevano raffinati portacioccolatini cinesi e di cristallo. Appesi al braccialetto c'erano cinque ciondoli, una conchiglia, un costume, un castello di sabbia, un paio di occhiali da sole e un ferro di cavallo. Per la fortuna che abbiamo ad averti nelle nostre vite, disse Susanna toccando il ferro di cavallo. Sollevai il braccialetto e i ciondoli scintillarono alla luce del sole. Mi piace un sacco. Mia madre era silenziosa. Sapevo cosa stava pensando. Stava pensando che Susanna aveva esagerato, che aveva speso troppi soldi. Mi sentì in colpa per averlo apprezzato così tanto. Mia madre mi aveva comprato degli spartiti e alcuni cd. Noi non eravamo ricchi quanto loro e in quel momento capì e finalmente cosa significava.